Alemano sarà all'altezza, Corriere della Sera, il titolo sta a pagina e all'interno, quindi adesso vado a cercarmelo, eccolo qua. Ecco, questa è interessante, una notizia televisiva, porta a porta supera il 33% di share, 2.693.000 contatti con il premier in televisione e questo è un segnale, perché Franceschi la settimana prima era andato malaccia, aveva fatto il 16%, invece il premier ha superato il 33%. Con una piccola variante, che forse è un po' favorito, ma è sicuramente un caso, invece di esserci in Matrix, come tutte le altre volte, su Canale 5, hanno mandato un film. E il film, poi a volte intestino è cinico e baro, era l'ultimo bacio di Muccino, ricordate, no, c'è uno che si innamora di una minorenne. Porso, un coincidenza, sicuramente, ma poi avete notato il finale, pazzesco, perché quando lei, la mezzogiorno, scopre a Corsi e comincia a tempestare o di botte, lui prima diceva, no, solo un bacio, invece l'altra sera ha detto, no, no, cara, posso spiegarti, è un complotto della sinistra.